Amici ma soprattutto nemici bianconeri, buonasera ragazzi, buonasera, che vergogna, che vergogna. L'avete voluto tenere voi in banchina? L'avete voluto tenere in banchina? Quando io lo dovevo aggacciare? E questi sono i risultati, questi sono i risultati. Siamo, allora lui ormai è scarso, non mi interessa niente, ormai parlare di allegri è come sparare sulla croce rossa. E' proprio sparare sulla croce rossa, non ha senso parlare di allegri perché è nulla cosmico, proprio è nulla cosmico, è nulla mischiato con il niente, è l'astratto, non è materia, non è una cosa fisica, è polvere, è vapore. Ma la società è responsabile di tutto ciò, che ha consegnato l'alibi dell'allenatore a questi giocatori e questi sono i risultati. 15 punti in 15 partite, vergogna, 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 vergogna. Siete la barzelletta d'Italia, società, giocatori e tutto. Barzelletta d'Italia, noi meritiamo la Champions, non la meritiamo. Non riesce a vincere neanche quando una serenetana che è retrocessa e soprattutto è piena di zeppa, di infortuni, non è neanche la formazione titolare, non è nascosta neanche. Perché oggi è venuta qui a vedersi la Venaria, a vedersi la Mole, oggi è venuta a farsi una gita. Non volevano neanche vincere questi. Non so neanche come cazzo hanno pareggiato. E all'ultimo, all'ultimo secondo si è divorato il 2-1 per la serenetana. Se l'è divorato totalmente. Che vergogna, che squadra indecente. Ma come si fa a tenersi a questi allenatori? Come si fa? Lo dovevamo cacciare. Vi ricordate la sosta nazionale? Lo cacciamo, lo cacciamo, lo cacciamo. Non l'hanno voluto tenere. Questi sono i risultati. Questi sono i risultati. Una squadra che non si allena completamente durante la settimana, che è sulle gambe, non ha schiepe, non ha geometria, non ha nulla. Non ha nulla. E non parlate loro, perché io vi dico, non fatevi infinocchiare da questi giornalai che parlano di rosa scarsa. Oggi alla serenetana, se c'era la next GM, oggi la next GM vinceva. E vinceva anche in maniera abbondante. Questi non fanno un cazzo durante la settimana. Si guardano negli occhi, sono tutte azioni personali. O è Chiesa, o è Vlauqic, o è Milic, tutte azioni personali. Non c'è coralità, non c'è gioco, non c'è nulla. Ripetisco. Chi si è veniva a vendere, raccoglie tempesta. È una società che a me giuntoli fa schifo. A me non mi interessa se parla di impolitichese o non politichese. A me giuntoli fa schifo. Quando parla di immenso, quando parla della nostra stella di diamante, quando parla di... Lo stiamo facendo con lui, stiamo ragionando con lui. A me lui mi fa schifo. Perché tutte le società di questo mondo hanno già esonato gli allenatori. E hanno preso la decisione. Non cambia nulla. Andava fatto anche ora. Ma andava fatto non solo verbalmente. Andava fatto fisicamente. Il cambio. Andava fatto fisicamente. Che schifo, che schifo. Ma come siamo, ci siamo, come ci siamo ridotti. Come ci siamo ridotti. E nessuno, e nessuno prende posizione. Oggi, lui, perché è un uomo di merda. Perché se fosse un uomo dignitoso, oggi si sarebbe dimesso. Dopo un pareggio, guarda, neanche... Io vi dico, neanche mi è arredato. Perché ci sono state due traverse. Neanche mi è arredato. Perché come era compiata la serra di dana, oggi, per... Ma era qualcosa di schifo, di schifo, di schifo. Non ci sono parole. È veramente una società pagliace. Siete la vergogna d'Italia. Come società. E non mi parlate di giunti. Lo dobbiamo vedere il prossimo anno. Lo dobbiamo vedere qua. Lo dobbiamo vedere là. O andava fatto questo cambio. Quando c'è stata la sosta nazionale. Andava fatto. I tempi erano maturi. La giusta causa c'era. E basta. Andava fatto là. Ora si è distrutta questa squadra. Ma non è perché ora viene e verrà. O Motta. O anche Conte. Ma non è facile riprendere questa società. Questa squadra. Non è facile. Non è facile. Perché qua siamo 0 sotto 0 sotto 0 sotto 0. Non è facile. Qua si sta sempre picconando. Si sta picconando ancora di più la squadra. Verso il barro. Verso il fondo. Perché non c'è società. Non è questo. L'allenatore ripetitivo è scarso. O me questo lo sappiamo. Non c'è nulla. Ma dovevano essere loro. I dirigenti a capirlo. Nel tempo giusto. E nelle modalità giuste. Piangono miserie per un allenatore. Ma poi la potevano affidare anche a Montero. Anche la potevano affidare a uno. Uno. Che sa fare. L'allenatore. Che sa far correre la squadra. Che gli sa far fare il fondo. Che gli sa far fare l'attività fisica giusta. No. Che gli dà 2-3 giorni di riposo. Non allena un cazzo. Fanno d'orello. Fanno. Ragazzi. I numeri non mentono mai. Quando si fanno 15 partite. E si fanno 15 punti. Non c'è. Non c'è. Non c'è video che tenga. Qua si rappresenta la merda. Ripetisco. La colpa è della società. Avete fatto ridere tutta l'Italia. Qua vede 5 punti dall'Inter. Che schifo. Un'altra cosa. Dico. Un'altra cosa. Tutto questo bordello. E' anche nato. Tutto questo sprofondamento. Questa crisi profonda. Oltre al soldo. Al soldo. Merdoso. Che abbiamo in banchina. E perché. La società. Sembra lei colpa. Ha dato gli obiettivi minimi. Come obiettivi massimi. Questi. Quando si sono fatti. Prima il giorno. Il giorno d'andata. In maniera bella. Ormai la qualificazione. Tutta pronta. Hanno mollato. Completamente. Hanno mollato. Perché l'obiettivo è quello. Minimo. Secondo noi. Secondo loro. Invece. L'obiettivo massimo. E questo. Sembra un conferenza stampa. Sì. 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 L'obiettivo. Qua tu. Di Bologna. Ti fai sfruttare dal Bologna. Vergogna. 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 Non avete anche un po' di vergogna. Quelle. Quelle. Prendono. 500.000 euro. 700.000 euro. Quanto possono prendere quelle. Che vergogna. Che vergogna. Ragazzi. Io non vi devo dire più nulla. Li bodisco. Quando si fanno 15 punti. In 15 partite. C'è soltanto una cosa da fare. Noi perché mancano due partite. Tre partite. Perché l'Atalanta ci asfalta. L'Atalanta ci asfalta. Ci fa pelo. E controvelo. Quando ci sono tre partite. Bisogna subito. Cacciarlo. Cacciarlo subito. Immediatamente. Perché è vergognoso. È schifosamente vergognoso. Veramente. Non ci sono cazzi. Superate. Ora siamo in quarto posto. Quarto posto se non sbaglio. Giusto? È quarto posto. Se non sbaglio è quarto posto. Per la classifica come viene delineata. Che vergogna. Fate schifo al cazzo. Ma stici ingazzati. Fino alla fine. Allegri a voto.